Continuano a essere numerosi positivi al covid nel Vallo di Diano, diverse le centinaia di persone contagiate dal virus e quindi la situazione resta ancora sotto stretta osservazione. Sala Consilina è il comune, anche in base al numero di abitanti, con più contagi e il covid colpisce anche il futsal, nello specifico lo Sporting Sala Consilina con ben 9 giocatori su 14 che sono risultati positivi al tampone eseguito ieri. Ricordiamo che a Sala Consilina sono oltre 100 i contagiati e la situazione è tenuta sotto stretta osservazione da parte delle autorità comunali. Infatti lo stesso sindaco Francesco Cavallone ieri ha tenuto una diretta sui canali social dell'amministrazione comunale per tracciare la situazione del proprio comune e invitare tutti i cittadini a tenere i dovuti atteggiamenti per evitare il contagio da covid. Tornando al calcio a 5 allo Sporting Sala Consilina, la Lega in seguito al focolaio che vi è nella squadra ha deciso di rinviare il match della ventitresima giornata di Serie B in programma domani al Palazzingoro tra i gialloverdi e il Fondi a data da destinarsi.